Il successo con la Fiorentina strappa un insperato pareggio il Como, reduce dalla vittoria sul Treviso. Dopo i tentativi di Corrado Colombo, la squadra di Cagni passa con Lucenti, imbeccato dalla invitante punizione di Tarana. Emiliani sicuri, guarda il Ben non corre pericoli e a Colombo viene misteriosamente annullato il raddoppio. E quando anche nella ripresa i padroni di casa sembrano controllare la gara? Vediamo Ferron su Patrascu e con l'uno a uno Lariano con il centro di Rossini in campo da otto minuti al posto di Colasante per lo stacco aereo di Carparelli. E nel finale la formazione di Fascetti, priva di Ghirardello, Rastelli, Padalino e Tarozzi, giustifica il pareggio colpendo un palo ancora con Carparelli e costringendo Guardalben all'intervento su Ferrigno, uno a uno.